Sapete qual è la differenza tra una scarpa da lavoro e una U-Power? Semplice! U-Power realizza scarpe pensate dai lavoratori per i lavoratori. I nostri laboratori hanno ideato una calzatura antinfortunistica su misura per tutti coloro che sono chiamati a lavorare per tante ore in posizione eretta, senza potersi sedere o cambiare posizione, e che, con il passare delle ore, sviluppano senso di affaticamento dovuto allo stare in piedi. Gambe stanche e pesanti? Dolori lombari? Alle articolazioni o cervicale? Circolazione lenta? Nessun problema! U-Power ha studiato un prodotto su misura per te, in grado di influire positivamente sul tuo corpo. L'utilizzo costante della tecnologia Red Carpet rivitalizza le aree interessate sottoposte a stress. Il segreto è nella sua anima realizzata in una mescola rivoluzionaria di BASF, utilizzata per i tappetini antifatica, in grado di assorbire e alleviare lo stress corporeo, riducendo i traumi derivanti dalla permanenza prolungata in stazioni di lavoro fisse. Un nuovo materiale, totalmente privo di sostanze nocive, in grado di stimolare e riattivare la circolazione sanguigna e dare sollievo alle articolazioni, ai lombi e alla cervicale, garantendo alte prestazioni in termini di comfort, equilibrio e distribuzione degli shock in ambienti di lavoro. U-Power con tecnologia Red Carpet, molto più di una semplice calzatura da lavoro. Visita il sito e scopri i rivenditori più vicino a te. La scelta è tua. www.u-power.it